Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo le spalle assieme. Il primo esercizio che vado ad eseguire è una shoulder incline. Io la faccio al contrario, normalmente andrebbe fatta con la schiena appoggiata e si spinge verso l'alto. Io la faccio al contrario semplicemente perché mi permette di avere i gomiti e i polsi in linea con l'impugnatura. Cosa che non avviene se mi appoggio con la schiena appoggiata perché l'impugnatura rimarrebbe più avanti del mio corpo, cioè praticamente non rimarrebbe in linea con le spalle. Così come lo sto facendo adesso invece mi permette di stare e spingere in linea con l'inclinazione della panca e con i gomiti sempre sotto e i polsi sotto l'impugnatura. Di questo esercizio faccio 5 serie da 10, 8-10 ripetizioni. Adesso questa qui è un'angolazione diversa. Allora bisogna scendere completamente. Adesso piano piano io scenderò perché queste erano le serie, scusate, le ripetizioni iniziali e non ero ancora caldo. Vedete, tengo una leggera iperlordosi ma è dovuta alla posizione. Si deve scendere completamente, il rom deve essere completo. Adesso bisogna cercare di tenere la tensione continua ed eventualmente non andare in chiusura, il lock out. Soprattutto perché si perde la tensione e poi perché eventualmente si scarica il lavoro anche sul tricipite e sul trapezio. Questa è un'altra angolazione. Il movimento deve essere sempre fluido, controllato, senza scossoni, senza sbattere il tutto eccetera eccetera. Adesso vi faccio vedere dalla posizione di schiena che si vede meglio. Vedete, parto, massima estensione. Vedete, quell'immaginario bilanciere scende al di sotto quasi del mento. I gomiti rimangono in linea con il corpo e si spinge verso l'alto. Diciamo che la larghezza delle mani poteva essere anche un pochettino più larga, però va bene anche così. Bisogna tenerle in quella posizione per evitare di caricare o troppo sui tricipiti o troppo esagerare sull'apertura per andare a creare problemi alle spalle. Secondo esercizio che faccio, normalmente si può fare anche in piedi. Questo sono praticamente delle alzate frontali con i manubri. Io la faccio seduto sulla panca e le faccio alternate. Il peso non è eccessivo, ripeto, perché purtroppo la mia età adesso non mi permette di usare troppo peso, ma cerco di concentrare bene il lavoro. Bisogna cercare di non oscillare, cercando di stare fermi con la schiena. Quando salgo, allora cosa succede? Ruoto il manubrio. Perché lo ruoto? Perché se dovessi partire già dal basso con il manubrio e con il dorso della mano rivolto verso l'alto, atterrei le braccia troppo larghe. Allora così mi permette di salire correttamente e poi chiudere. Perché per lavorare e concentrare meglio il lavoro sul deltoide anteriore, bisogna andare leggermente verso l'interno. Si sale e si va verso il centro. Vedete che io vado verso il centro. Allora, l'altezza, il manubrio non deve superare l'altezza della spalla per andare ad evitare di lavorare troppo sul trapezio. Ok? Si lavora alternati per cercare di concentrare il lavoro. Ricordatevi che qui non lavora solamente il deltoide anteriore, lavora anche leggermente il pettorale alto. Questa è un'altra angolazione. Anche di questo faccio 5 serie da 8-10 ripetizioni. Ovviamente quando siete sulle ultime ripetizioni e se non ce la fate più potete fare un po' di cheating, ma è ammesso. Ma deve servire solo per farvi completare la ripetizione. Non dovete partire già dall'inizio. Un po' di oscillazione c'è sulla schiena. Tutto quello che vi dico sulle spalle è frutto della mia esperienza. Poi ovviamente se dobbiamo andare a vedere tutti i tecnicismi allora bisogna entrare in merito a tante altre cose. Però diciamo che così in linea di massima si capisce bene come bisogna lavorare. Questa è una macchinetta. È una macchina per le spalle. Sono le aperture laterali con la macchina. A me questa macchina qui non fa impazzire. Però devo dire che mi permette di avere la tensione continua per tutto il movimento. Il problema di questa macchina qual è? che non si possono regolare i rulli per cui magari sono troppo stretti e allora invece di andarsi a appoggiare sul gomito e il rullo si va a appoggiare magari sul bicipite. Per cui dà un po' fastidio sul movimento. I gomiti però vedete che rimangono sempre in linea. Il movimento deve essere anche qui fluido e controllato. Deve essere un movimento non a strattoni, sempre controllato. A limite è un po' più veloce la fase positiva. Anche qui faccio 5 serie da 10 ripetizioni. Un altro problema di questa macchina è il fatto che faccio fatica a entrarci. Adesso la vedete? Vedete? Guardate come faccio per entrare. Devo prima posizionare un braccio e poi il lato. Un po' perché ovviamente è una macchina non fatta proprio per tutti. Cioè se uno è un po' più grosso del normale ha difficoltà ad entrarci. Allora anche qui bisogna salire fino all'altezza delle spalle senza andare oltre per evitare di coinvolgere troppo il trapezio. Poi se uno vuole coinvolgere anche il trapezio può salire anche oltre. Il movimento qua. Adesso qui c'è un'altra angolazione. Guardate. Anche qui faccio la stessa fatica. Vedete? Prima metto dentro un braccio e poi metto l'altro. E poi il problema è posizionare le mani. Si può fare anche senza agganciare le manopole. Però devo dire che non viene correttissimo l'esercizio. Allora evito di farlo. Però c'è qualcuno che lo fa anche senza impugnare le manopole. Però le manopole ti permettono di avere sempre in linea il gomito con il polso. Ok. Qui faccio come dicevo prima 5 serie da 10. Qui ve le sto facendo vedere tutte. Da tutte le angolazioni. Questo ancora facciamo fatica a entrare. Una cosa che è interessante sulle spalle. Allora le spalle ci sono persone che caricano come i pazzi. Ma non essendo un muscolo gigantesco. Cioè un muscolo medio piccolo. Secondo me non è necessario utilizzare dei grossi carichi. L'importante è cercare di focalizzare il lavoro sul deltoide. E cercare di creare la tensione giusta su tutto il movimento. Questa è un'altra angolazione. Ve le sto facendo vedere tutte. Tra l'altro in alcune palestre ci sono delle macchine bellissime per le spalle. Non faccio il nome della palestra però ti permettono di stare in piedi. e fare e imitare il movimento di aperture laterali, di alzate laterali classiche con la macchina. Ed è una macchinetta, la fa la panata, la fa la teca. Adesso la fanno ultimamente un sacco di altre aziende. Allora questa invece è una versione delle aperture laterali con una leggera inclinazione in avanti di circa 15-20 gradi. Allora cosa faccio io? Posiziono una panca, la inclino leggermente a 75 gradi, mi appoggio con il petto. Adesso si poteva stare anche un po' più bassi oppure ci si può anche sedere. Però io preferisco farmi in pieda perché riesco a focalizzare e a concentrare meglio il lavoro. Ovviamente davanti alla panca metto dei pesi per evitare che quando mi appoggio mi scivola in avanti la panca e mi ammazzo. E salgo lateralmente. Allora il movimento secondo me questo qua è uno dei migliori per sentire le spalle. Ti permette di andare a focalizzare anche un pochino, a dare un po' più di enfasi anche sul deltoide posteriore. Vedete come è la posizione? Questa leggera inclinazione sposta leggermente il lavoro sul deltoide posteriore. Questa è una visione diversa, si vede dal davanti, vedete le braccia sono leggermente piegate e non piegatissime. Dovete pensare di volare come diceva Arnold, dovete prendere e spiccare il volo. Aprite, alla posizione neutra dei gomiti, poi se avete problemi particolari allora potete lavorare in extra rotazione con i gomiti. Io direi di evitare di fare l'intra rotazione, perché se avete problemi delle spalle può crearvi dolore oppure problemi successivamente. Vedete? Altezza delle spalle si sale, anche qua si cerca di non andare oltre per lavorare il trapezio. Poi se volete lavorare il trapezio potete farlo anche completo. 5 serie da 10, il peso qua non è eccessivo perché è più concentrato il lavoro e permette meno di oscillare e di aiutarsi. Adesso qua lo faccio vedere da dietro. Da dietro le braccia sembrano più piegate, però non sono così piegate. Diciamo che poi quando si ha la fine ovviamente un pochino ci si stanca e allora si ruba leggermente. Questa era l'ultima serie, vedete che piano piano tendo a piegarlo anch'io, nessuno è perfetto purtroppo, però cerco sempre di focalizzare il lavoro sul deltoide posteriore. Ok, allora, poi passo all'esercizio successivo che è un'apertura a 90, inclinato in avanti, praticamente lavoriamo i deltoidi posteriori. Bisogna cercare in questo movimento di tenere i gomiti leggermente piegati e cercare di aprire completamente. Vedete, la schiena deve essere, deve formare un angolo di diciamo 90, 90 o magari un po' di più, 90 gradi, salite un po' sui 60 gradi, ma non oltre. Allora, ricordatevi che l'inclinazione permette di lavorare di più, più o meno, una porzione del trapezio. Allora, più vi alzate, più vi inclinate meno e più il lavoro va sul trapezio medio-alto. Se state più bassi va sul trapezio centrale. Qui lavoro nel deltoide posteriori, ok? Anche qui dovete pensare di aprire, allargare, salendo. Su questo esercizio l'ideale sarebbe non dare slanci, però se vogliamo caricare un pochino un minimo di slancio ci deve essere. L'importante è che vi permette però di abdurre e addurre le scapole completamente. Dovete cercare di chiuderle le scapole, vedete le braccia rimangono sempre leggermente piegate, leggermente. Il carico anche qui non è eccessivo. Questo è un altro esercizio che faccio sempre per i deltoidi posteriori. Ed è una macchinetta che abbiamo in McFit. Viene utilizzata pochissimo perché è nella zona dove si fa riabilitazione. Le persone loro non la considerano neanche. Però io dico che questa macchinetta, se è fatta nella maniera giusta, fa lavorare benissimo il deltoide posteriore, tutta la porzione alta della schiena, con anche il trapezio interno. Poi ti permette di stare seduto e focalizzare ancora meglio il lavoro. Anche di questo qui faccio circa 5 serie da 10. Anche di quello di prima faccio 5 serie da 10. Ovviamente non faccio vedere tutte le serie che faccio perché sennò dovremmo fare un video di un'ora e mezza perché il mio allenamento dura un'ora e quindici minuti. Ok, movimento cercando di farlo fluido. Se il peso, in alcuni casi, il carico del carrello non è sufficiente, imparate a diminuire la velocità, cioè tenete più tempo sotto tensione il muscolo, aumentate così il carico interno e sentite ugualmente il muscolo e si ha lo stesso un buon effetto. Ultimo esercizio perché io assieme alle spalle inserisco anche i trapezzi sempre. Da quest'anno, infatti ho avuto un discreto miglioramento, faccio due volte alla settimana i trapezzi, faccio due volte alla settimana i tricipiti e faccio due volte alla settimana i dorsali. Allora questo è il classico movimento di scrollata, lo faccio col bilanciere libero, vedete? Bisogna cercare di alzare solamente le spalle, di pensare di toccare con le spalle le orecchie. Ovviamente viene abbastanza naturale piegare anche leggermente i gomiti. Questo è l'ultimo esercizio per completare il lavoro delle spalle, perché quando faccio le spalle inserisco anche i trapezzi. Normalmente faccio cinque serie da dieci e a volte ne inserisco anche di più per andare a lavorare di più la parte centrale del trapezio. Questo è tutto il mio allenamento di spalle, sono circa 25-30 serie in totale. Ricordatevi che l'allenamento è fatto su misura per me. Se voi volete prendete degli spunti per creare il vostro allenamento. Direi che per oggi è tutto. La prossima volta vi anticipo che farò un altro gruppo muscolare, farò le braccia. Non vi dico se saranno i tricipiti o i vicipiti, sarà una sorpresa. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, mettere tantissimi like, cliccare la campanellina e fate tutti i commenti che volete. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa dare degli spunti per i vostri allenamenti. Cercate di non copiarlo e basta, perché l'allenamento è fatto su di me. Io vi saluto e vi auguro buona serata e buon allenamento. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!